Dal divorzio all'aborto fino all'omosessualità, i tabù della società italiana pochi mesi prima della rivoluzione del 68, un romanzo che parla di ieri ma anche di oggi perché l'amore non conosce tempo nel luogo per essere vissuto. È il libro Le forme dell'amore, un testo all'insegna dell'esplorazione di questo sentimento e delle tante forme dell'amore che permiano il romanzo ambientato nella divina costiera a Positano. Bagine delicate che spingono il lettore alla riflessione su una società che in pochi mesi riesce a mutare pelle, la società borghese bigotta a rivoluzionaria. Devo dire che i primi sei mesi sono stati veramente un'avventura come tutte le cose che iniziano e che poi poco alla volta prendono forma, è proprio il caso di dirlo, anche questo romanzo in realtà ha avuto il suo viaggio, è a metà un pochino del suo percorso di quest'anno. Devo dire che la cosa che ha maggiormente colpito le persone che hanno letto il libro è stata sicuramente l'atmosfera, questo è quello che tutti mi hanno praticamente detto, l'atmosfera che poi è quello che racchiude il libro, cioè questa atmosfera degli anni 60, la meravigliosa costiera malfitana, soprattutto ha colpito tanto chi la costiera malfitana non l'ha mai vista o comunque l'ha vista magari soltanto qualche volta in vacanza. Qualcuno che non c'è mai stato mi ha detto è bellissimo perché mi è sembrato di esserci, ecco questo per me devo dire l'ho trovato un grande complimento. Le tematiche sono, devo dire, tutte le tematiche che mi stanno a cuore, io non volevo fare né un romanzo politico né un romanzo sociale, devo dire la verità, però inevitabilmente poi mi sono resa conto che nel momento in cui andavo a raccontare delle storie d'amore in un determinato periodo storico che era per l'appunto il 67, quindi subito prima della rivoluzione dei costumi del 68, la rivoluzione sessuale eccetera, inevitabilmente finivo per toccare delle corde se vuoi di natura politica, di natura sociale, perché comunque sia, insomma l'ho detto anche dal principio quando mi chiedono che cosa penso, cosa mi ha spinto a scrivere questo romanzo, mi ha spinto l'idea di voler raccontare come l'amore sia in qualche modo condizionato dal tempo e dal luogo in cui tu lo vivi, perché chiaramente vivere una storia d'amore oggi qui in Italia, nel mondo occidentale è diverso da viverla tanti anni fa nello stesso luogo, ma ancora di più viverla anche oggi in tante parti del mondo in cui tanti diritti non sono riconosciuti.